Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio dei Flash Daily News di Motivation Academy. Oggi sarà un episodio interamente dedicato a Student Finance, quindi scoprirete oggi insieme a me, in maniera breve ma veloce ed efficace, quali tipo di Student Finance potete ottenere e che tipo di Student Finance esistono. Inizierei a partire con che cos'è Student Finance? Student Finance è il servizio che il governo inglese mette e offre per il fatto di incentivare la gente a studiare all'università inglese e si differenzia e si divide diciamo in due parti, tuition fees e maintenance loan. Che cos'è tuition fees? Tuition fees è un prestito, un loan che viene messo, che viene offerto per comprire tutte le tasse universitarie appunto di intorno 9000 pound. all'anno. Non riceverete direttamente questi soldi nel vostro bank account, bensì verranno direttamente inviati all'università e quindi in maniera tale da coprire esclusivamente le tasse e le rette universitarie. Invece abbiamo il maintenance loan poi che cosa sono? Sono soldi extra per appunto sostenere il vostro livello di vita e le spese giornaliere. Quindi nel caso si vada all'università e si debba mollare il proprio lavoro, lasciare il proprio lavoro, questo maintenance loan vi permette di avere un sostegno economico e finanziario abbastanza importante e si suddivide anch'esso in altre due categorie. Per chi è di Londra e vive a Londra si sa, il costo di Londra della vita è molto più caro rispetto alle altre città inglesi e queste persone possono ottenere 13000 pound all'anno. Questi 13000 pound verranno direttamente trasferiti sul vostro conto bank account divisi in tre installments tendenzialmente in base a come viene diviso l'anno insomma. E poi abbiamo invece 10700 pound per tutte le restanti persone che vivono nell'Inghilterra e che vanno in università alti fuori delle università di Londra. Oltre a questo Student Finance ha un programma interamente dedicato ai genitori, ossia per tutti coloro che appunto genitori, mamme, papà, che hanno figli e che dunque hanno altri costi da sostenere, Student Finance crea altri due tipi di loan, di prestiti, il Child Care Grant e il Parents Learning Allowance. Le differenze tra questi due. Il Child Care Grant vi dà intorno ai 183 pound a settimana per figlio. Poi ovviamente questi corsi cambiano a seconda del vostro income e di tutte le precisazioni e le cose che devono controllare Student Finance prima di effettivamente certificare e inviarvi questi soldi. Comunque sono intorno ai 183 pound a settimana che verranno trasferiti non nel vostro bank account, bensì al nome direttamente come prima all'università per le tuition fees. Questi Child Care Grant vengono trasferiti all'asilo, all'istituto, appunto il nome dell'istituto nel quale i vostri figli stanno per appunto all'asilo. Oppure invece abbiamo il Parents Learning Allowance che sono intorno ai 50, vanno dai 50 ai 1860 pound che vengono trasferiti direttamente nel vostro bank account e questi appunto sono soldi in più che non dovrete ridare, quindi non è un prestito che va ridato indietro, si estingue da solo, che vengono appunto trasferiti nel vostro bank account per coprire tutti quei costi extra che un figlio ovviamente necessita e ha bisogno. Questo è tutto ragazzi per oggi, spero di essere stata chiara. È stato un weekly news, daily news abbastanza veloce di 4 minuti e 33, però spero di avervi tenuto compagnia, spero di essere stata chiara e se avete altre domande, altre informazioni di cui avete bisogno, noi siamo qui, siamo pronti a rispondervi. Lavoriamo con tante lingue, lavoriamo in polacco, inglese, spagnolo, italiano, rumeno e arabo. Però sì, siamo qui a vostra disposizione, se avete altre domande scrivetele pure qua sotto nei commenti oppure scriveteci in indietro, in privato, mandateci un messaggio, un'email, quello che volete, oppure veniteci a trovare in ufficio. Grazie mille per averci seguiti oggi e vi mando un abbraccio, ci vediamo tra due giorni. Ciao! Ciao!